Oggi, oggi parliamo di parabolica di Lazaro, Gesù, Gesù va da Lazaro, e dici, tira il Gesù, che parliamo di parabolica, Gesù va all'ultima scena, perché Gesù è un uomo che chalava, parlava a tutti, vuol dire che il terzo diceva, chalau, chalau, chalau. Dici, ah, Gesù, no, ma sei una pezzetta, tutti quanti, tutti amici, diciamo, papà, Gesù, no. Tutti quanti vanno a me una pezzetta con Gesù. Quando entriamo dentro l'estolante, capirelli dice, ah, chi paga qua? Ha visto gli ebrei? Esce fuori Giuda e dice, ah, Gesù, ah, Gesù. Capirelli guarda Gesù e dice, ah, qui non lo conosco, capire, l'ultima volta, l'ultima volta è venuta senza pagare, è scappato sull'acqua, più di più si è scappato l'acqua. Gesù aveva un po' lo sagato, perché Gesù aveva delle belle, ha detto, c'è un problema, oggi papà io, ma Gesù, questa è l'ultima scena che fanno, non lo conosco, non lo conosco. Gesù voleva parlare gente, allora papà di Gesù, la del niente, dice, guarda l'automiglio, vettete qua. Gesù mi portava una serie, dice, non voglio parlare, voglio parlare. Gesù sempre dice, ma perché tu parli, poi è giunto da pazza, chi parla da un'altra 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 pazza, e dice, su cui sei papà. Voglio che apparteni da te andi, ma come di questo compagno. Noi siamo riqui, no, ah.